Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Oltre 4 milioni e mezzo di euro per 16 scuole e 5,7 milioni di grandi opere di edilizia scolastica destinati a 4 istituti di competenza della provincia di Teramo, oltre alla sistemazione degli asfalti nei piazzali. Il consigliere delegato all'edilizia scolastica Luca Lattanzi e il presidente della provincia di Teramo Camillo D'Angelo hanno presentato gli investimenti che l'ente ha messo in campo per le scuole del territorio. Abbiamo affidato tutte le gare che non erano ancora state affidate, ha detto Lattanzi. Abbiamo anche consegnato diversi di questi lavori e dentro l'estate saranno ultimate le manutenzioni straordinarie. Inoltre abbiamo anche 4 grandi opere in gara per le scuole, ha proseguito Lattanzi. Il liceo di Nereto, Curi di Giulianova, il liceo Migli e l'istituto Comi di Teramo per un totale di quasi 5,7 milioni di euro che 5 mesi fa erano fermi. In progettazione infine i lavori di adeguamento sismico del liceo artistico Montauti con fondi USR Abruzzo e il progetto di fattibilità per la demolizione e la ricostruzione del liceo scientifico Einstein di Teramo con fondi del Ministero delle Infrastrutture. Il finanziamento delle grandi opere sarà così distribuito, 1.229.000 euro circa per il liceo Peano di Nereto, un milione di euro per il liceo Migli, all'ITC Comi va un altro milione di euro, 2.500.000 euro al liceo Curi di Giulianova per un totale di oltre 5.729.938 euro. Gli uffici stanno lavorando lacrimente per recuperare i finanziamenti che al mio insediamento come consigliere delegato erano in stallo, continua Lattanzi, i nostri ragazzi e le loro famiglie meritano spazi adeguati e sicuri dove potersi formare per affrontare le sfide di domani. A godere degli interventi le scuole di Atri, Castelli, Giulianova, Nereto, Rosetto degli Abruzzi, Sant'Egidio, La Vibrata e Teramo.